buongiorno ragassuoli ragassuoli oggi siamo in una location un po diversa perché facevano i lavori in casa quindi non si sentiva l'audio e sono venuto qui nel bosco dove probabilmente non si sentirà l'audio e lo so questo passa al convento questo ci teniamo oggi parliamo di cinque film usciti nel 1970 ovviamente nel 1970 sono usciti una miriade di film questi qua non sono i più importanti di quell'anno nei più belli sono i cinque film di cui volevo parlarvi che sono usciti nel 1970 andiamo a incominciare e iniziamo dall'altra faccia dell'amore di ken russell siamo in russia nella seconda metà dell'ottocento e il film segue le vicende del compositore pietr ceikovski questo film è un melodramma e già per il 1970 è abbastanza avanti parla di un uomo che è sì geniale dal punto di vista della composizione della musica delle musiche sono bellissime e anche la messa in scena delle musiche è stupenda perché ogni volta che lui suona un un suo pezzo vediamo di svariati personaggi che non vi sto a dire la fantasia che si crea su quella musica addirittura vediamo anche la fantasia di pietr ceikovski sulla sua musica cioè cos'è che lo ispirava a scriverla e parla di un sì un compositorio geniale come vi dicevo ma di un uomo mediocre di un uomo insicuro di un di un uomo che non si è mai capito non si è mai voluto capire fino in fondo infatti pietr ceikovski era omosessuale non ha mai accettato la sua omosessualità tanto ad arrivare a sposare una donna per poi odiarla ed è nina nina che è interpretata da una fantastica favolosa glenda jackson veramente un personaggio portato in scena in una maniera è un capolavoro il personaggio anche il film ma proprio il personaggio interpretato da glenda jackson è un capolavoro cambia stati d'animo poi comunque era una una persona molto molto volubile molto anche ingenua da un certo punto di vista specialmente all'inizio nina questa questa nina di cui adesso il nome intero e reale non mi ricordo che poi diventerà comunque la moglie di ciaikovski anche il personaggio di pietra ciaikovski è meraviglioso con come personaggio come attore scusate richard chamberlain fantastico bellissimo c'è proprio anche lì una messa in scena lui anche lui poi è un film che parla tanto di stato d'animo ok essendo di musica parlando parla molto di quello che provano i personaggi interiormente e come lo poi lo portano fuori che è stupendo che è fantastico e lo vedi lo vedi che c'è stato un lavoro dietro della madonna per creare i personaggi quando ancora i personaggi venivano proprio creati con gli attori e ci mettevano del loro anche oggi ci sono dei grandi attori che lo fanno ma i più tanti personaggi adesso guardavo giusto la serie tv che di cui vi metto i video le reazioni sono personaggi che a parte 1 2 sono buttati lì non hanno spessore non hanno un loro comportamento non hanno una loro motivazione invece questi personaggi erano tutti personaggi che avevano una motivazione che avevano un un obiettivo un bisogno e un 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 contrasto un contrasto esterno che bloccano e che è quello che farà andare avanti il film superandolo meno ovviamente perché in tanti film invece questo questo blocco questo contrasto più va avanti in più cresce e il il personaggio rimane rimane in valia in rimane pressato da questo da questo contrasto per farvi in breve la trama seguiamo tutta la 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 vita del compositore pieter tchaikovsky ovvero da quando diventa pieter tchaikovsky conosciuto da tutto il mondo quindi non vediamo la parte prima non capiamo la parte umana del personaggio che però poi verrà amplificata verrà spiegata durante tutto il percorso del personaggio dell'artista pieter tchaikovsky e quindi il matrimonio le musiche ci sono delle scene che sono bellissime anche la fotografia in certi momenti è veramente stupenda e parla più l'immagine è ancora un film dove parla l'immagine ad esempio ci sono anche anche come viene usata la luce fa capire lo stato d'animo senza dover dire parole c'è una scena la scena sul treno è stupenda c'è lei che si alza la gona poi non vi racconto troppo perché vorrei proprio che andate a vedere infatti in descrizione vi metto il link per andarlo a vedere che tra l'altro lo trovate anche qua su youtube vi metto proprio il link per vederlo qui su youtube e come vi dicevo anche la messa in scena delle musica qualcosa di stupendo perché cambia proprio la fotografia cambia proprio la scena cambia tutto diventa un quasi un videoclip sulle musiche di pieter tchaikovsky secondo film di cui andiamo a parlare oggi è l'amante alla regia troviamo claude sautette e qua troviamo di nuovo come protagonista l'amore ma non solo l'amore proprio tutte le cose della vita infatti il titolo francese il titolo originale è le cose della vita il film parla di pierre bernard un industriale affermato che vive da parecchi anni con la sua amante a parigi l'amante si chiama helen e stanno per fare un viaggio in africa dove consolideranno il loro rapporto infatti lui deve andare in africa per affari per firmare un contratto e vuole portarsi helen con con lui il fatto è che pierre bernard dovrà andare a casa per dei documenti da firmare dalla dalla sua moglie la sua ex moglie e li troverà il figlio ventenne che gli chiederà se prima di partire per l'africa ha voglia di passare 15 giorni con lui e fare una vacanza il padre non si sentirà di negare la vacanza al al figlio e questo porterà un raffreddamento nel un raffreddamento scusate nel rapporto fra lui e helen litigheranno una una sera lui partirà per un altro un altro contratto a reno a mi sembra e scriverà una lettera per mollare per lasciare helen fatto sta che lui poi ci ripenserà e tornerà in indietro e poi non vi racconto il il finale perché sta tutto nel finale il finale molto esplosivo è un film di nuovo molto molto bello parla di una cosa molto più semplice qua ci abbiamo i shuttle che passano sopra di noi io spero non si sentano o si sentano meno di quello che li sento io vabbè il film parla di della vita di questo piero bernardo e di suoi affetti di nuovo un film che parla di affetto un altro film che parla di emozioni interne rilasciate nel senso esposte agli altri oppure mantenute segrete un film che va di nuovo visto vi metto anche di questo il il link comunque un film prettamente francese con un romanticismo di altri tempi con una visione dell'amore di altri tempi con questo triangolo in cui alla fine l'ex moglie ne esce come la più saggia come la più intelligente infatti anche con con pierre anche per il figlio tengono comunque dei buoni rapporti il rapporto è ancora saldo ancora benché siano ormai separati hanno un bel rapporto pierre e la ex moglie di cui non mi ricordo assolutamente il nome forse rachel il terzo film di cui vi voglio parlare è zabrisky point un film di antonioni girato in in america uno della trilogia di antonioni girati in in america ed è un film molto particolare allora intanto il titolo zabrisky point è un posto real che esiste realmente ed è nella valle della morte nel deserto del moe nel del moave in in california facciamo subito la conoscenza di mark che sta partecipando a un'assemblea in un'università occupata non sembra molto interessato ai tanti 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 discorsi che gli altri studenti fanno quindi fa una battuta ed esce dalla dalla classe dall'aula nello stesso momento conosciamo daria daria fa la segretaria in una grande azienda di los angeles per guadagnare qualche soldo quando la conosciamo e nell'altro di questa grande azienda e sta cercando di recuperare un suo libro dimenticata e dimenticato in ufficio dove però una guardia non la fa passare non può non le permette di tornare in ufficio passiamo di nuovo a mark mark sta andando a pagare la cauzione a un suo amico che è stato preso in una rettata della polizia risponde male a un poliziotto viene arrestato anche lui quando gli chiedono le generalità cosa bellissima gli da il nome di carl marx il poliziotto che è ignorante come una capra prende le generalità e scrive carl marx tra l'altro carl lo scrive con la c bellissima la scena lì è stupenda torniamo da daria in realtà torniamo dal capo di daria il capo di daria sta guardando uno spot per un villaggio turistico che sarà costruito da lì a breve nel deserto del moave daria lo contatta via telefono perché daria in quel momento è nel deserto del moave e sta cercando un villaggio dove un suo amico ha aperto una casa famiglia per bambini disagiati non trovando il suo amico cosa fa daria prende la macchina e torna indietro il capo gli dice che dovranno vedersi a phoenix dove c'è l'assemblea dove c'è la riunione con i finanziatori per il villaggio vacanze torniamo da mark mark con suo amico vanno a comprare una pistola e poi vanno di nuovo al campus al campus sono ricominciati gli scontri con la polizia un poliziotto muore e mark viene incolpato della sua morte anche se non è vero mark non ha mai sparato un colpo mark scappa e arriva in un un aeroporto privato dove ruba un piccolo aereo di quelli a mono elica quelli con l'elica davanti scappa e va a farsi un giro con questo mono elica sul deserto del moave ovviamente girando nel deserto del moave chi incontra incontra daria dopo svariate piripezie che non vi do non vi racconto così ve le godete daria e mar che si trovano sulla macchina di daria perché devono andare a far benzina per l'aereo e arrivano a zabriskie point a zabriskie point si danno il loro primo bacio e poi fanno l'amore e quando loro fanno l'amore nella valle della morte altre coppie cominciano a fare l'amore altre coppie venute e comparse cominciano a fare l'amore nella valle della morte facendo praticamente fiorire questa valle di vita ed è una scena stupenda e in certe in certe pellicole anche anche stata tagliata sta scena qua e c'è stata una censura della madonna per questa scena come una scena che invece è stupenda e bellissima sei nella valle della morte ed è pieno di vita e fai la cosa che crea la vita il bellissimo bellissimo la scena lì è stupenda crea tutta la tutto il film tutto il resto va 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 lì va in quella scena secondo me e nelle nelle scene ultime in cui arriviamo i due dopo essere stati alla pompa di benzina tornano all'aereo e si separano convinti di rincontrarsi daria va a fenix invece marchi va a restituire l'aereo marchi arriva all'aeroporto e daria arriva alla villa di fenix e io mi fermo qua non vi dico altro le scene che verranno dopo sappiate lo capirete quali sono se non l'avete visto se l'avete visto sapete benissimo di cosa sto parlando se non l'avete visto sappiate che le scene dopo questa sono delle pietre migliali del cinema ma lo capirete anche voi quando le vedrete quando uscì al cinema questo film fu un vero e proprio flop antonioni fu accusato di freddezza di vaghezza di non aver capito l'america e i suoi conflitti interni di aver visto l'america da europeo addirittura inutile dire che adesso invece è un cult come come film tanto perché l'hanno usato gli oasis nei loro nei loro videoclip ma anche altri altri gruppi si sono basati sulle scene di cui non vi ho raccontato ma sono sono famose non lo racconto perché magari c'è qualcuno di giovane che non l'ha mai visto e non voglio spoilerargli l'ultime gli ultime scene però se conoscete sapete sapete benissimo di cosa sto parlando è un film che a me piace tantissimo parla di amore parla di morte parla di come il consumismo faccia morire tutto faccia morire sia l'amore che la morte comunque che tolga la vita ok che tolga la vita ma non nel senso che la faccia morire che proprio la frantumi la trasformi la utilizzi la sporchi la sporchi il fatto di dover fare questo villaggio nel centro del moave al centro di zabreski point nella valle della morte e quindi mercificare qualcosa la valle della morte mercificare questa cosa è infatti le scene di cui non vi sto parlando continuamente parlano proprio di questo ed è proprio la fantasia di daria che va a far giustizia quello che dovrebbe succedere per far giustizia questo mondo sarebbe quelle immagini che è una cosa bellissima che è una cosa bellissima è bellissimo sto film guardatelo e vi metto il link mi sa che in questo link che vi metto la scena è censurata la scena dell'amore è censurata ci metto anche il link del blu ray del dvd così ve lo trovate se magari ve lo guardate se vi piace vi comprate il dvd o il blu ray con tutte le scene anche quelle di censurate che poi furono decensurate quando diventò un cult ma che purtroppo non mi sa che non si trovano su youtube parliamo adesso di un film che è veramente una pietra miliare del del cinema internazionale specialmente olivudiano però ed è uno dei film più belli usciti secondo me nel 1970 e parliamo di mesh alla regia troviamo robert altman che ogni volta che gli chiedono di questo film lui gli dice secondo me cioè per me il film è il vietnam poi gli studios mi hanno rotto i cones e mi hanno fatto mettere la didascalia iniziale dove si spiega che in realtà è la corea ma per me quello che volevo descrivere era il vietnam e tutte le 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 riflessioni che fanno i personaggi sul punto di vista politico parlano di nixon e poi gli studios l'hanno l'hanno un po l'hanno un po frenato ma lui parlava del vietnam e si vede comunque per quanto te lo dicano per quanto te lo dicano che è il la corea è il vietnam è il vietnam mesh parla di un ospedale da campo in corea nella guerra di corea e dei dottori che lo abitano che lo popolano tra cui c'è il protagonista che occhio di falco interpretato da donald sutherland che io adoro in qualunque film tu lo metti lui è bellissimo è fantastico è bravissimo ha fatto anche un film italiano che adesso mi veniva in mente che è piazza delle cinque lune in cui è stupendo secondo me poi magari qualcuno ha fatto ca però a me è piaciuto veramente veramente tanto vi metto il link di tutte le due guardi messe vi metto anche il link di questo che non c'entra niente di piatta delle cinque lune messe è una pietra miliare del cinema hollywoodiano ed è un ed è stata la rivoluzione dell'inriverenza si prendono gioco dei loro superiori non stanno alle regole ma quando operano sono stupendi sono fantastici non 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 sgarrano in un minuto in tutto il resto del tempo fanno il belino che gli pare a loro ed è bellissimo ed è bellissimo perché non racconta molto non c'è un filone nella storia cioè non è non c'è un bisogno non c'è una missione c'è il fatto di dover stare in guerra dietro le righe dietro le linee a 3000 miglia dalla prima linea ed è ed è bellissimo vedere come passavano il tempo e sono inriverenti non ce ne frega niente a loro loro sono lì operano e inizia con donald che arriva finisce con donald che se ne va con il personaggio con occhio di falco che arriva al campo e finisce con occhio di falco che va via dal campo ed è un pezzo di vita è un pezzo di vita di questi soldati che facevano i dottori c'è il prete diventa quasi un film scolastico tipo la pierino ok dove ognuno c'è il il suo ruolo ed è un film che è stupendo ci sono delle immagini stupende perché anche anticlericale contro la religione prende per il culo anche la religione e c'è un punto in cui non vi dico il perché così se non l'avete visto lo vedete se l'avete visto sapete benissimo di cosa sto parlando rifanno la scena la scena della dell'ultima cena di leonardo da vinci ed è stupendo ed è fatta a parte che è fatta benissimo cioè proprio anche la posizione di tutti i medici ed è stupendo è stupendo ragazzi non so cos'altro dirvi di questo film ha fatto la storia nel 1970 ha fatto la storia nel raccontare la guerra quindi ad hollywood da lì è nato tutto il genere che prendeva per il culo fra virgolette la guerra e l'eroismo americano quello senza macchia senza paura viene viene un po un po sbriciolato da questo film ed è un film che vi appassiona benché non ci sia una storia potentissima dietro riesce a tenervi incollato al allo schermo perché volete vedere cosa combineranno questi tre perché c'è occhio di falco duke e razzo che sono le due spalle di occhio di falco e ne combinano di tutti i colori in questo in questo ospedale da campo nella corea che in realtà è il vietnam e quindi è un film è un film geniale vi metto il link sotto è un film geniale finiamo questa classifica con il conformista di bertolucci questo film va visto signori perché se gli altri ve li ho consigliati non che non vadano visti vanno visti anche gli altri ma questo qua va visto assolutamente proprio è obbligo vederlo il conformista perché parla dell'italia parla di fascismo parla dell'italiano medio ed è ancora molto molto attuale il conformista perché il popolo italiano tendenzialmente è conformista siamo sempre stati ok questo film parla di marcello che è un agente segreto del fascio dei fascisti siamo nell'epoca fascista siamo nel 38 lui deve sposarsi con giulia marcello deve sposarsi con giulia giulia è una stupenda e giovanissima stefania sandrelli che se non volete vederlo per la questione morale guardatelo per stefania sandrelli che è stupenda e ci sono delle scene ragazzi è bellissima bellissima ma solo che il volto solo come gli hanno fatto i capelli cioè è bella cioè è veramente è proprio bella è proprio una bella donna è proprio una bella ragazza qui è veramente veramente bella torniamo alla trama marcello viene incaricato di andare in francia a uccidere il professor quadri professor luca quadri che era stato anche suo professore alle alle superiori di filosofia deve andarlo a ucciderlo perché il professor quadri ovviamente è antifascista e si è rifugiato in francia marcello deve sposarsi con giulia e per sposarsi con giulia però giulia vuole che marcello vada a confessarsi marcello è anticattolico non è cattolico non è credente ma per sposarsi con giulia deve per forza se no quella lì non si muove di un centimetro e va a confenza a confessarsi quando va a confessarsi dal dal prete racconta che a 13 anni ha ucciso un un uomo ovvero l'autista di famiglia perché aveva provato abusare di lui poi torniamo alla questione francia torniamo alla questione francia i due marcello e giulia si sposano si sposano e come viaggio di nozze come viaggio di nozze scusate vanno ho sete non ho l'acqua quindi mi sento abbastanza anch'io nel deserto del moave vanno come viaggio di nozze come viaggio di nozze vanno in francia vanno a parigi vanno a parigi e lui la prende come scusa questo questo viaggio di nozze per andare a uccidere il professor quadri ovviamente arrivano a parigi lui si mette in contatto con il professor quadri intanto marcello viene seguito affiancato affiancato barra seguito da il fascista vero colui che crede veramente nel fascismo non come marcello che è nato è nell'epoca fascista quindi cosa fa diventa fascista ovviamente invece manganiello che è un personaggio fotonico di cui non mi ricordo il nome del dell'attore ma è bravissimo un altro attore che io adoro marcello come vi dicevo si mette in contatto con il professor quadri che li invita a casa sua giulia e marcello vanno a casa del professor quadri e ad accoglierli trovano la moglie del professor quadri anna anna è una donna stupenda marcello se ne innamora follemente alla prima occhiata entrano in in questa casa e innamorato così di 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 anna comincerà un po a provarci e anna non è che non ci sta ecco anche perché anna ha capito che questo qua è un fascista che è venuto a uccidere il marito quindi userà tutte le armi possibili immaginabili per salvare il marito da qui tutto il piano di marcello andrà a farsi benedire perché semplicemente lui non riuscirà a trovare il coraggio di uccidere il professor quadri ma manganiello all'ordine di uccidere il professor quadri e ci sarà una vicenda anche psicologicamente destabilizzante di questo film io non vado oltre non vi racconto oltre perché non voglio spoilerarvelo guardatelo 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 acquistate il dvd acquistate il brue rei non lo troviamo così così a passant su youtube ma fate il modo di vedervi il conformista perché va visto e vi lascia un po l'amaro in bocca specialmente il finale ragazzi lascia un amaro in bocca tremendo e niente io direi niente arriva l'elicottero che voi state sentendo quindi io prima che mi passi sulla testa l'elicottero vi saluto iscrivetevi condividete ci vediamo su instagram ci vediamo su youtube e niente alla prossima speriamo di essere di nuovo in casa oppure ditemelo se vi piace io potrei far diventare questo il mio studio perché no ora devo sentire anche un po come l'audio ma se dovesse dovesse essere vagamente buono io potrei anche un po organizzarmi mettermi il microfono più vicino ed ecco lì che potremmo farlo diventare il nostro studio questo almeno nelle belle giornate adesso che viene dovrebbe venire caldo ma sto parlando troppo l'elicottero si sta avvicinando quindi ciao a venerdì prossimo oppure in settimana come volete voi ciao